In occasione della giornata della memoria e dell'impegno per ricordare alle vittime innocenti di tutte le mafie, il Comitato Resistente Costituzione, in collaborazione con la IACE, ha promosso secondo appuntamento della Rassegna le giornate del cinema civile, rivolto agli studenti delle scuole superiori. Al Cinema Lux di Torino è stato proiettato in anteprima il film La Terra dei Santi, opera di esordio del regista calabrese Fernando Muraca. Io credo che sia stato uno degli strumenti più utilizzati. L'immagine vista al cinema aiuta i ragazzi a riflettere sui problemi che oggi la società moderna pone. Un film molto forte che ripropone un tema che continua purtroppo ad essere un dramma del nostro paese, a questione della criminalità organizzata, esplicitata in tutte le sue forme, la mafia, l'andrangheta, la camorra. Credo che sia giusto che il Comitato per la formazione dei valori della resistenza e dei principi costituzionali si occupi di queste questioni.